Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove andremo a trattare l'impresa in concorrenza perfetta. L'obiettivo di un'impresa in concorrenza perfetta è massimizzare il suo profitto, quindi andremo a capire come quest'ultima in un mercato concorrenziale, quindi caratterizzato da un'infinita concorrenza tra imprese, quindi da una polverizzazione dell'offerta, come riesce a massimizzare il suo profitto e lo vedremo nel breve e nel lungo periodo. Andiamo a fare una panoramica generale e ad introdurci nell'argomento. Dicevamo che fino a qualche video fa abbiamo appreso che in un mercato abbiamo la domanda e l'offerta che quando si incontrano generano un equilibrio, un equilibrio che determina il prezzo ottimo di mercato e la quantità ottima scambiata. Ma un'impresa in concorrenza come deve agire al fine di massimizzare il suo profitto? Beh, la cosa che deve fare è prendere il prezzo di mercato, tanto è vero che le imprese in concorrenza si chiamano price taker, cioè prendono il prezzo di mercato. Infatti si dice che in concorrenza perfetta per un'impresa il prezzo è dato. Perché è dato? È dato dal mercato perché una singola impresa certamente non può fare il prezzo se ha infiniti concorrenti. E allora che fa? Prende il prezzo di mercato e lo inserisce nella sua individuale funzione di offerta. Qual è la funzione di offerta individuale per un'impresa? Il suo costo marginale. Per cui inserendo il prezzo all'interno del costo marginale otterrà quella quantità ottimale da produrre per massimizzare il suo profitto. Per cui se io sono un'impresa che oggi apre e vuole sapere come massimizzare il suo profitto deve prendere il prezzo dal mercato, inserirlo nella sua funzione di costo marginale e capire se la quantità ottima da produrre è effettivamente producibile nel mercato di riferimento dove mi trovo. Quindi se è possibile produrre quella quantità so di poter massimizzare il profitto, altrimenti non lo potrò massimizzare. Per cui nel punto in cui il prezzo eguaglia il costo marginale avremmo il massimo profitto. Profitto che si indica con la lettera pi greco. Andiamo a dimostrare quello che abbiamo detto. Abbiamo detto che l'obiettivo dell'impresa è massimizzare il profitto. Il profitto è chiaramente una funzione concava data dai ricavi totali meno i costi totali. Ovviamente noi sappiamo che il ricavo totale si calcola prezzo per quantità e invece il costo totale deriva da quella teoria della produzione che abbiamo studiato, ovvero dalla funzione di produzione deriverà la funzione di domanda dei due fattori produttivi che inserita nell'isocosto andranno a creare la funzione di costo. Per cui sappiamo che il ricavo totale e il prezzo per la quantità è il costo totale e il costo derivante dalla produzione. Per cui se io voglio massimizzare il profitto, come faccio a massimizzare una funzione? Dovete sapere che per rendere massima una funzione la si deriva rispetto alla variabile principale e la si pone uguale a zero. Quindi ricordatevi per massimizzare, ma tra parentesi anche per minimizzare una funzione, si fa sempre la derivata prima di quella stessa funzione e poi poniamo tutto uguale a zero. Quindi nel nostro caso, se faccio la derivata del profitto rispetto alla quantità, otterrò la derivata del ricavo totale, che sarebbe la derivata di p per q, e la derivata di p per q è la prima derivata a zero per la seconda non derivata q più la prima non derivata p per la seconda derivata a uno. E quindi la derivata è p. Meno, ora devo fare la derivata dei costi totali. Se vi ricordate, nell'analisi dei costi abbiamo spiegato che il costo marginale è la derivata del costo totale. Per cui, ora facendo la derivata del costo totale, avrò il costo marginale. E quindi la derivata del profitto viene p meno mc. Cosa abbiamo detto? Che per massimizzare devo porre il risultato uguale a zero, lo dicevamo qua. E quindi, se pongo il risultato uguale a zero, vuol dire che il prezzo sarà uguale al costo marginale. Quando il prezzo sarà uguale al costo marginale, avrò massimizzato il profitto della mia impresa. E quindi, ritorniamo al discorso che dicevamo anche graficamente. Chiaramente, quindi, prezzo uguale al costo marginale è una formula che ci permette di fare cosa? Di calcolare la quantità, perché il prezzo è dato. Quindi ci permette di calcolare la quantità ottimale da produrre per massimizzare i profitti in un'impresa in concorrenza perfetta, quando? Nel breve periodo. È fondamentale capire che questa formula è una formula attuabile nel breve periodo. Nel lungo periodo la formula va modificata, perché il prezzo ottimo di lungo periodo sarà non solo uguale al costo marginale, ma il costo marginale in funzione di una quantità ottima di lungo periodo. Questa quantità ottima la otteniamo dal minimo dei costi medi. Quindi, la prima cosa è fare il minimo dei costi medi, come si fa? Derivando i costi medi e ponendo uguale a zero. Da questo calcolo otterremo la quantità ottima di lungo periodo. La quantità ottima di lungo periodo andrà poi sostituita nel costo marginale per avere il prezzo di lungo periodo. Quindi, lo schema generico è, mi calcolo il minimo dei costi medi, il minimo dei costi medi sarà la quantità ottima di lungo periodo che andrò a sostituire nel costo marginale per avere il prezzo ottimo di lungo periodo. Chiaramente, nei video successivi, nelle lezioni successive, andremo a vedere proprio degli esercizi per calcolare la massimizzazione del profitto di un'impresa sia nel breve che nel lungo periodo, oltre a fare altre piccole annotazioni riguardo un'impresa in concorrenza perfetta. Bene, per questa introduzione è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!